ciao a tutti ragazzi bentornati in questa in questo video di gameplay scusate ieri per l'interruzione ma ho dovuto togliere il video di asparta 9 non so se l'avete visto già comunque adesso vi spiego a breve che cosa consiste gioco il gioco consiste di avere tante macchine più macchine più cose riesce a fare poi ci sono la mia carriera se andate e ci sono tutti i capitoli come avete visto io ho completato il primo capitolo questo secondo che sto facendo il terzo il quarto però questa volta io ho passato il volume quindi non lascerò e parlerò solo io magari ci metto una musichetta di sottofondo vediamo un po come viene poi vediamo in base i gameplay li farò con la musichetta quindi farò un pochino un pelino più meglio e vedremo ok se riesco a mettere la musichetta e tutto quanto io avevo fatto questa corsa qua ne facciamo diverse intanto io nel mio canale porterò adesso anche molti molti gameplay di giochi in questi giorni farò un video tutorial se riesco sempre con la musichetta che vi farò vedere tutti i miei giochi che ho nel telefono ok dal dal primo all'ultimo però ovviamente non ci gioco e li faremo man mano nel tempo quindi prima nel telefono poi vi farò vedere qualcosa nel pc poi farò vedere un video tutorial che ho detto ieri che spiegherò passo 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 come si fa una cosa un video introduttivo quindi non farò solo di gameplay di giochi eccetera ma come fare una determinata cosa che vedrete non vi posso ancora dire nulla ok lo farò comunque a breve questa cosa qua il video ci sarà fra un po' è molto bella questa corsa peccato che non posso usare il volume però metterò ovviamente una musichetta se riesco e così lo faccio più carino più bello e tutto quanto quindi dopo io lo carico e lo metto su youtube così lo potete vedere tranquillamente senza ammazzarlo di sottofondo perché ieri ho notato che c'era un gran ammazzarlo piano 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 sto caricando tutti i miei video del gameplay ma più che altro non li farò tutti man mano li farò un pochino non voglio rompere con questi gameplay magari dovete fare la missione qua in mezzo a destra potete vedere la missione che è quindi devo fare cinque nove salti devo saltare con questa macchina qua poi ci sono diverse macchine che ci sono anche quelle della AS vanno classificati in lettera molto bello sono già arrivato ma perso comunque la farò un'altra e un'altra ancora ne faccio tre in questo primo gameplay poi se volete che io porti altri contenuti su questo fantastico gioco adesso c'è la pubblicità la togliamo se volete che io porto questi gameplay fantastici ancora su questo gioco e particolarmente su asfalto 8 andatelo a rivedere scrivetelo qua sotto nei commenti ok porterò anche ninja for speed quindi giochi di macchine ma anche giochi di ruolo e di roba varie tipo fortnite minecraft di costruzione solo che quello minecraft ce l'ho nel pc perché nel telefono dovrei pagarlo ma a me non mi va pagarlo non mi piace io nei giochi vi consiglio di non pagare mai per cavolato ok non ne vale la pena ragazzi non ne vale la pena tenetevi i soldi per altre cose io per esempio mi ritengo esclusivamente per i modellini per il momento voi tenetevi anche per magari per fare dei game free eccezionali o per un telefono nuovo quello che volete basta che non spendete dei soldi inutili per un gioco e nitro perfetto qua ho fatto già la missione dovete arrivare prima con questa fantastica macchina qua ok fantastico poi molto bella la lotus mi pare che sia la lotus questa è buona se non erro ho finito ho vinto eccetera nitro perfetto e tutto quanto molto bello molto bello facciamo l'ultima è già tardi andiamo avanti quindi andiamo nel 13 avete anche un pacchetto quindi qua potete comprare il pit ok usate se qua copre qua in alto ma non riesco a toglierlo perché ogni tanto fa così dovrei aprire e il gioco però vabbè aspettate un secondo ecco qua ci sono ci sono ci sono ci sono fatto una cosa ecco qua ecco 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 scaricatelo e dovete avere un telefono con una bella grafica perché come vedete il mio non mi lagga neanche un momento e è sempre così deve essere nell'altro che avevo prima siamo mi ragmi 8 mi laggavo abbastanza quindi ho dovuto anche togliere i giochi di macchina maggior parte dei giochi sparta 8 e sparta 9 perché sono molto molto pesi come download mi pesano un sacco di memoria sono 4 gb mi pare se non mi ricordo male si dovrebbe essere 4 gb a gioco quindi controllate se avete la possibilità di scaricare questo fantastico gioco poi lo provate e vedete come va io potrei portare anche fortnite sempre nel telefono che ce l'ho anche qua ok quindi io potrei registrare benissimo adesso vedo in questi giorni se farlo quindi un po di tutto farò dei giochi ok quindi scrivete anche qua sotto nei commenti il vostro gioco preferito o il vostro gioco che vi piace qui adesso io ho concluso il video quindi mettete un pal mi piace qua sotto in basso a sinistra e commentate e attivate la campanella per ricevere tutte le mie notifiche dei miei video e soprattutto iscrivetevi al mio canale per questi fantastici gameplay ok mi raccomando iscrivetevi ciao a tutti al prossimo video ciao